Con oltre 1.600 voti si è concluso il premio fotografico Napoli Inedita, curato da Rosario Morisieri e Federica Ciminelli, che ha proposto 61 fotografie insolite della città, esposte per la prima volta a Palazzo San Giacomo. Premiate le foto di Emma Scapicchio, Giancarlo De Luca, Nicola della Volpe, Mena Castaldo, Umberto Lucarelli, Ferdinando Kaiser. Un mese fa, da una miaccia divertente da Zandini, che conoscete, Rosario Morisieri, è nato un gioco sull'embre. Sono le tante cose nuove che facciamo in questo palazzo, ormai siamo arrivati a migliaia e migliaia e migliaia di persone che vengono a visitare il nostro palazzo, che è una novità importante, è una bella cosa questa che è stata fatta, bella è stata la partecipazione, complimenti per le fotografie che ho visto, sono davvero belle ed è stato difficile votare, penso che il messaggio è stato forte e quindi un ringraziamento a chi ha pensato a questo, a chi ha partecipato e se questo è servito per far conoscere ancora meglio il palazzo della città di Napoli, questo a noi non può che far piacere. Gli organizzatori sono già al lavoro per lanciare la prossima edizione che avrà per tema a fatica nella doppia eccezione napoletana e italiana.